Ciao ragazzi, oggi vi racconto la storia dello Schinus molle. Lo Schinus molle è un albero sempre verde, un albero dalla crescita molto vigorosa. Qui abbiamo un esemplare di circa dieci anni che non è stato neanche bagnato. Una peculiarità di questo albero è di avere delle radici abbastanza morbide ma molto invasive. Quindi non andrebbe mai, cosa che in questo caso al suo tempo è stata fatta, piantato a meno di 5 metri dalle fondamenta di una casa, comunque da dove c'è del cemento. È un albero che solitamente cresce 6-7 metri, un tronco che una volta diventato adulto può arrivare fino a 40 cm di diametro. È un albero che si trova in tutti i litorali, anche italiani del meridione, in questo caso siamo a Fuerteventura, alle isole Canarie ed è un albero molto famoso. Schinus molle, anche detto falso pepe o pepe rosa. Crea queste bacche che, se vedete, che adesso non siamo ancora in periodo di maturazione, fino a diventare rosse. Ecco qua, riesco a farvene vedere una. Eccole qua. È una pianta anche abbastanza famosa in paesi come il Perù, il Cile e piuttosto che la Bolivia, perché è medicinale. Soprattutto in passato usava questa pianta non solo come ornamento, non solo come riparo dal vento, perché vedete che comunque è molto fitta. Adesso, beh, chiaro necessita di una bella sfoltitura, cosa che io faccio perennemente. È una pianta che secondo me produce almeno nove mesi l'anno, perlomeno qui, può tranquillamente crescere anche due metri, due metri e mezzo all'anno in lunghezza. Ricorda molto il salice piangente, come lo vedete. Non è una specie che sia molto esigente per quanto riguarda il suolo, si adatta praticamente a qualsiasi tipo di terreno, quindi cresce anche in suoli poveri senza alcun problema. Non è una pianta soggetta a malattie, sebbene comunque qui alle Canarie troviamo molte mosche bianche, non è una pianta comunque che mi ha mai dato difficoltà. È una pianta che va quindi considerata rustica. È chiaro che predilige suoli leggeri e che chiaramente ora della fine non siano impregnati di acqua, non necessita di tanta acqua. Secondo me potete tranquillamente in un ambiente italiano lasciarla crescere da sola. Un'altra peculiarità di questa pianta è che se tagliata, vedete, produce un lattice. È un lattice che creavano anche una gomma, creavano una gomma, se la masticavano e la usavano anche per curare i denti quando avevano qualche infezione o qualche malattia. Ecco, come vedete questa qui, in questo caso ha una forma circolare. La si tiene sempre ad un'altezza, non lo so, circa 140-150 cm da terra. È una pianta che io sto cercando di recuperare da ormai due anni. Vedete la struttura del ramo che cresce, poi si piega e crea poi questa forma a cappello piuttosto che a fungo. Nel nostro caso abbiamo pensato di tagliare tutti i rami che non davano luce e soprattutto aria alla pianta che sono di suo cerca di chiudersi e abbiamo mantenuto quattro rami principali che poi, vabbè, anche questi qua sono due extra che abbiamo pensato di tenere per lasciare una forma circolare continua. Quindi in questo caso potete vedere una pianta con una forma propria, quindi vedete è molto, è molto carina, è molto carina e facendo in questo modo riuscite anche a dare davvero un senso logico a questo albero. Ed ecco qui l'albero con un anno di vita, questo ramo nasce da praticamente questa pianta donatrice che abbiamo visto pochi secondi fa e è un albero appunto come vi dicevo di un anno propagato per talea, quindi una pianta che si propaga molto facilmente. Come vedete è un albero che cresce molto in fretta, ecco un punto diciamo a sfavore se abitato in un posto ventoso come noi le Canarie è che è un albero che tende, guardate che siamo già a un metro novanta di altezza fatta in un anno, è un albero che tende a crescere molto vigorosamente come rami e come foglie ma nello stesso momento non anche a livello di radici, quindi se adesso io tirassi su questo albero, perché oramai va considerato come un albero avrà delle radici che supereranno di poco i 30 centimetri, quindi dateli sempre un supporto magari migliore di quello che gli ho dato io e poi per il resto è una pianta che crescerà sicuramente molto bene. Potete anche dargli una forma ad albero classico, quindi facendolo crescere con un fusto anche alto 4-5 metri e poi lasciandolo aprire una volta sopra, anche se io sinceramente lo preferisco di questa forma, bisogna sì qua sopra tagliare, evitare, non so, ha bisogno di un taglio qua, 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 dargli una forma sempre abbastanza tonda, ma come vedete tutte le foglie più chiare sono tutte le foglie che sono nate adesso, ma parliamo di piante, è di una pianta che è stata potata meno di un mese fa, quindi capite la velocità che ha questa pianta qui di crescere. Ragazzi spero che il primo video a livello naturalistico vi sia piaciuto, ci sono tante altre piante che vi farò conoscere, sono praticamente tutte piante reperibili anche nei garden italiani e se così non fosse, se passate a Fuerteventura per una vacanza, volentieri farò in modo di regalarvi un rametto per potervelo portare poi in Italia. Iscrivetevi al canale Nico Ica, come avrete visto voglio spaziare come video e spero che questo video vi sia piaciuto, alla prossima!